Città blindate, niente spostamenti tra i comuni, niente inviti a chi non vedete da tanto tempo e comunque poche, pochissime persone per queste festività a casa degli italiani. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato nella sua relazione al Parlamento le prossime misure anti-Covid. C'è bisogno di altre settimane di sacrifici, ha detto, e poi una robusta cura di mantenimento, altrimenti la terza ondata è dietro l'angolo. Lo dicono anche i medici, in particolare il primario di malattie infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo, Danilo Tacconi, in trincea contro il Covid-19 ormai da marzo scorso. La fotografia di oggi, sicuramente la situazione è leggermente migliorata rispetto ai giorni scorsi. Questo deriva probabilmente da una riduzione dei nuovi casi anche nel territorio e devo dire che per noi è importante, ma è importante per tutti. Quindi insistiamo nell'impegno forte che tutti i cittadini ad oggi hanno messo in campo, che è quello appunto del distanziamento sociale, delle attenzioni, perché produrrà sicuramente effetti. Di questo ne sono convinto. C'è a rischio di una terza ondata, dottore, gennaio? Se ne parla, è per questo che bisogna stare attenti. Il Natale è con tante precauzioni? Assolutamente sì. Direi che merita affrontare il Natale ancora con qualche riserva. Il vaccino, ormai più che una speranza, è quasi una certezza. L'acquisto, ha detto Speranza, è centralizzato e sarà somministrato gratuitamente a tutti gli italiani. È probabile che saranno necessarie due dosi per ogni vaccinazione l'Italia, opzioni per 202 milioni di dosi. Le prime potranno cominciare ad essere disponibili da gennaio. Le categorie da vaccinare con priorità saranno gli operatori sanitari e sociosanitari, residenti e personale delle RSA per anziani, persone in età avanzata, per ottenere una maggiore copertura vaccinale e coprire persone con maggiori fattori di rischio. Anche su questo si è espresso il presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni. Questo è il nuovo capitolo perché noi ci stiamo approntando, io ho mandato ieri l'altro, anzi quando è stato venerdì, la lettera a Arcuri spiegandogli quello che è il piano che noi abbiamo in testa perché a metà gennaio dobbiamo essere pronti per diffondere il vaccino, le 106 mila dosi che poi dovranno essere rinnovate un mese dopo in tutta la Toscana. Il punto di riferimento saranno i presidi, 12 ospedali, qui a Arezzo sarà proprio questo. È un nuovo vaccino, posso capire quelle che sono le precauzioni. Io quando il ministro della Sanità Roberto Spenanza e il dottor Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore della Sanità, mi certificano che è il vaccino che può contrastare il Covid-19, io sono già convinto.